ariete avete bisogno di un po di sicurezza a livello emotivo ma se continuate a chiudervi agli altri e alla vita otterrete il risultato contrario toro non c'è nulla di male nel chiedere aiuto agli altri a risultato ottenuto però non potete prendervi tutto il merito sappiate riconoscere l'importanza del contributo altrui gemelli e siete convinti che tutto stia procedendo secondo i piani in realtà qualcosa potrebbe sfuggire al vostro controllo siate vigili cancro giornata ideale per verificare l'andamento dei vostri investimenti e per verificare che ci siano sistemi per farli fruttare di più leone riceverete forse più informazioni del previsto ma saprete trovare il modo per metterle tutte a frutto entro la fine della giornata vergine dovrete dedicare più tempo del previsto a una persona cara che ha bisogno del vostro aiuto e del vostro sostegno morale per risolvere un problema personale non sarà tempo sprecato bilancia non giocate con i sentimenti degli altri e tanto meno con i vostri in questo momento correte più che mai il rischio di ferire permanentemente qualche cuore scorpione la vostra tendenza a criticare tutto ciò che non capite non vi porterà da nessuna parte al contrario dovreste astenervi da ogni giudizio e sforzarvi di comprendere sagitario misurate le parole oggi soprattutto se avrete a che fare con una persona che tende a prendere tutto alla lettera non create false aspettative capricorno avrete un'idea che può fruttarvi parecchio denaro oggi ma non sarà facile metterla in pratica ci vorrà un po di creatività acquario state dando troppe cose per scontate un amico ve lo farà notare dategli ascolto pesci non dovrete fare tanti misteri sulla vostra vita privata oggi ci sono persone con cui potete confidarvi senza timore